E tu come stai? Come sto? C'hai qualcuno? No, 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 no. No, io non sono fatta per stare con qualcuno. Anzi, penso proprio che la vita di coppia è una forzatura. Ci ho provato, eh. Ci ho provato... Molte più volte di quelle che magari non ti immagini. No, è che non fa per me. Io invito quelli che ce la fanno. Però quelli che ce la fanno veramente, non quelli che fanno finta. Perché mi guardi così? Sei stata una brava madre. Te l'ho mai detto. No, no, no. No, 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 no. Non mi testo. No, no, no. No.